Dunque è finita. I tuoi intrighi, come te, sono alla fine. Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo. Proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, templare. Oppure taci. Ti ha mandato a uccidere nove uomini, eh? I nove che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono i nove a trovare il tesoro, assassino. Non nove, ma dieci. Un decimo? Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. È dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Il tuo signore, Almualim. Ma lui non è un templare. Ti sei mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto? Dove trovarci? Quanti eravamo? Quali erano i nostri fini? Egli è il maestro degli assassini. Sì. Maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Sì. Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita e, di conseguenza, condannato la tua. Ma ora mi hai tolto la tua.